lo dico subito io non sono affatto contrario né alla diciamo opportunità di riduzione degli sprechi né a ridurre l'inquinamento né alla riduzione delle emissioni dannose non mi interessa nemmeno all'aspetto ideologico di alcune scelte di alcuni paesi europei di alcune amministrazioni o dell'unione europea quello che è importante è informare le persone su alcuni aspetti su alcuni eventi che i mezzi di informazione principali normalmente non danno recentemente apparsa la notizia che all'aia in olanda in alcune zone centrali è stato imposto un ticket di ingresso per il parcheggio da 50 euro che vale per tutto il giorno ma vale anche se uno deve parcheggiare solo per 10 minuti come forte disincentivo all'utilizzo delle automobili private assumere simili decisioni sostenendo come è stato fatto dall'amministratore dell'aia che i cittadini vanno educati per andare principalmente a piedi o in bicicletta o con i mezzi pubblici di fatto equivale a penalizzare un intero comparto economico infatti i commercianti dell'area in questione stanno facendo le barricate nei confronti di questo provvedimento del resto anche nella nostra milano non siamo messi benissimo perché sono stati imposti dei limiti con le famose aree a e b che chi è della zona qui conosce molto bene per la circolazione anche di veicoli piuttosto nuovi e tutt'altro che inquinanti o non particolarmente inquinanti come i diesel euro 5 fra l'altro ponendo il divieto di ingresso proprio pochissimi metri prima dei parcheggi di interscambio con ciò dimostrando che non è una volontà di tipo educativo ma è anzi una volontà di tipo punitivo anziché favorire l'interscambio con la metropolitana si pone il divieto pochi metri prima le follie green poi trovano sponda anche nei colossi della finanza alcuni analisti di morgan stanley hanno dichiarato che avere un figlio è dannoso per il clima perché ogni bambino produce una forte quantità di co2 in sostanza ci stanno dicendo che è meglio estinguerci abbastanza esilaranti sono alcuni articoli televisivi che nei mesi scorsi abbiamo visto dove presunti esperti ci insegnano che possiamo essere green spegnendo il gas con il quale cuociamo la nostra pasta un minuto prima che la pasta sia cotta perché in questo modo si risparmia del gas e tanto l'acqua è già calda il tutto però quando i nostri governi ci vogliono imporre un grado in meno di riscaldamento in casa ci chiedono di spegnere il gas ma contemporaneamente riscaldano gli uffici pubblici durante l'inverno in una maniera che io personalmente ho constatato in particolare con il tribunale della mia città dove al mese di febbraio entrando si trovava un calore veramente degno delle bahamas nei mesi estivi la domanda è ma quanta pasta ci cuociamo con il gas che è stato sprecato per avere 26 gradi dentro un tribunale vicino a dove abito c'è un supermercato che a fine di aprile di quest'anno 2023 ha immediatamente acceso l'aria condizionata ai primi giorni di sole un intero capannone è gelido come una cella frigorifera quindi uno spreco di energia elettrica pazzesco per avere al mese di aprile una temperatura bassissima e per entrare bisogna mettersi più mini l'educazione forzata che si sta portando avanti da parte di alcuni governi e dell'unione europea nei confronti dei cittadini non va di pari passo con l'educazione dei funzionari pubblici con l'educazione delle imprese sprecone o delle compagnie aeree che continuano a consumare enormi quantità di petrolio con il quale ovviamente si produce un enorme quantità di co2 e naturalmente un enorme quantità di inquinanti tutto questo petrolio di un solo viaggio aereo vale migliaia di automobili quelle automobili termiche che l'unione europea vuole che a breve siano bandite dall'intero continente avevate pensato a questi aspetti dell'ambientalismo estremo ecco diteci la vostra nei commenti qui sotto se già non lo avete fatto iscrivetevi al canale aspettiamo veramente il vostro pensiero grazie e alla prossima